... Stefano Capitani e da Francesco Mattioli della redazione de lospallino.com che mi assisterà in questa... Se n'è andato il primo minuto del match con questa azione del caos Duio per Kakà, cerca uno spazio, inquadra la porta, la parata mette a sedere Duio e poi ci mette una pezza Vinicius che ruba palla cerca di alimentare il contropiede del caos, vola a terra Duio caos che si lamenta per un fallo, poi Vinicius serve Kakà Duio che passa in metà campo, un varco al centro, carica il tiro conclusione centrale, parata in due tempi da Mammarella è diventato indispensabile il mio acquisto Duio per il caos infatti non è ancora sceso, la palla passa sempre dal suo piede gran lancio per Pitoni che punisce Mammarella in uscita ma con un diagonale perfetto e preciso, sciacca la palla l'angolino basso, il caos passa in vantaggio Buon intervento di Turmena che è un avversario per rubato palla inquadra la porta, chiude Alimi all'indietro per Duio Turmena cerca di andare via sull'auto sinistro, si riesce, inquadra la porta respinge Mammarella all'indietro per Mimi, normalmente Caetano, su di lui però c'è Pedotti che è un ottimo intervento pulito sulla palla Alimi a destra per Duio, a spazio, Duio carica la conclusione e la rete del numero 29 del caos Duio grandissima rete di Duio e dunque caos 2, acqua e sapone 0 dopo 9.45 del primo tempo Punizione di Coco, parata con l'acqua e sapone Jonas a spazio, la finta, poi inquadra la porta perde un po' il tempo il capitano del caos, adesso palla per Vinicius, Cacà, Duio, Duio per appuntare Jonas col mancino, la respinta di Cosiano, Turmena, Duio, Pedotti e Cacà varie soluzioni di tiro, sistema la barriera Mammarella, la conclusione di Turmena che colpisce la traversa per imbalza sulla linea della respinta di Cacà Coco dentro per Jonas, interviene in due tempi Putano rimesso laterale in favore dei bianchi di mister Capurso la rete del 3 a 0 segnata in scivolata da Cacà, ottavo centro stagionale per Cacà la rete del... ...puntano si è reso protagonista soprattutto all'inizio del secondo tempo il palo di Mimi è stato quasi... si punta di più su difesa e contropiede adesso ancora una volta la Cosopone in avanti con Jonas, però Putano incredibilmente risponde a un 1-2 adesso Cacà a spazio, arriva alla conclusione, la respinta di Mammarella poi con lo specchio della porta Cesaroni Jonas che al volo inquadra la porta e batte... attacca la Cosopone con Burrito ma è bravissimo Duio a recuperare palle poi a seguire la corrente Tuormena che batte Mammarella e dunque a rete del 4 a 1 segnata da Tuormena abbracciato da Duio, Caos che ristabilisce le tre reti di distanza Tuormena che esulta e si sblocca davanti al pubblico amico di Ferrara Jonas, palla per Schioche Caetano si accentra a spazio, inquadra la porta qua leggera disattenzione, ha avuto azione dell'acqua e sapone Schioche per Murilo cercava Coco Schmidt, poi arriva alla conclusione Schioche a cercare Jonas sul palo la conclusione, la respinta di Putano si è messo una pezza il portiere a spazio adesso Caetano che trova Jonas poi esce molto bene e con questo intervento di Putano direi che si chiude qua il match Caos che mette le mani sulla vittoria addirittura con la rete del 5 a 2 di Gio Pedotti che vale la certezza di questo successo di questi tre punti della terza vittoria consecutiva